Il parco delle Madonie attraversato dal fiume Pollina che a un certo punto del suo corso entra nelle gole di Tiberio. Qui la natura regna sovrana e piena di magia e anche di leggende proprio come quella dell'ombelico, una sorta di cordone sotterraneo che risucchia uomini e animali. Buongiorno Giovanni! Ciao! Ma vi devi raccontare, è vera la leggenda dell'ombelico? Cioè i pastori non passano da qui perché hanno paura di sparire? Chiaro, Umerico! È una leggenda millenaria, è una zona strappissima, ci sono più di 10 metri d'acqua, si cade lì e si arriva al mare, una sorta di inghiottitoio naturale. Come si chiama da voi? Umerico! Umerico, beh io ho un po' paura però sono troppo curiosa, su Umerico lo voglio vedere. Ma vuoi andare così? Aspetta, aspetta un attimo. Ti faccio indossare gli scafandri. È fantastico! Adesso indossiamo il salvaggente. Lo indossiamo su? Sì, sì, no, indosso la testa, basta lo scafandro. Giovanni, ma questo è il paradiso. Guarda. Guardate che meraviglia i disegni che creano sulle rocce i riflessi dell'acqua. Giovanni, ma è vero che in questo fiume ci sono anche le anguille. Certo, anguille, pinche e granchi di acqua dolce. Io ti ringrazio, però mi devi fare un'ultima cortesia. Dimmi. Mi devi accompagnare la macchina. Vabbè, pure questo. Vabbè, andiamo.